e adesso vorrei passare con il prossimo relatore Furio Onsel, è il sindaco di Udine, è lavorato in matematica presso la scuola normale superiori di Pisa, docente, fortissimo passato e presente anche nella ricerca universitaria, direi un raro esempio di sindaco che ha un forte background come anche di ricerca e conoscenza tecnica dei vari settori e ho fortissima volontà politica di portare avanti le cose. Io chiederei al sindaco di illustrarci un po' come fare a portare avanti quando uno ha anche magari delle idee brillanti o sente, viene ispirato da relazioni come quelle che abbiamo sentito oggi, torna a casa, torna nell'ufficio, nella sua sedia di sindaco, cosa fa? Cosa si può fare in pratica? Come ci si muove? E che suggerimento darebbe? Grazie, quanto tempo? 12 minuti. Ho anch'io il cronometro, è 12.00 siccome è matematico, devo essere preciso. Allora, cosa fare? Beh, innanzitutto fare alleanza con la WESP, perché qui basta già il nome... Che promuove questo workshop. No, basta già il nome, sport per tutti, lo dico spesso, che è già poesia. E devo dire che anch'io sono stato colpito dalle presentazioni che sono state fatte prima, perché non riesce ad andarmi fuori di testa con l'immagine di lucidi di questo ragazzo obeso, o ragazza obesa, che è discriminata due volte. E sto pensando che cosa ho fatto io a nove anni di sindaco per evitare che ciò avvenga. E qualche cosa, ovviamente, mi sto rambicando sugli specchi, qualcosa abbiamo fatto, qui c'è anche il mio assessore, gli stili di vita, che è Raffaella Basana, ti alzi i piedi, grazie, la quale ha fatto un programma che si chiama Sport oltre la crisi, perché quello che accade è che nei quartieri più popolari, dove forse è meno forte la pressione sociale a emergere, la meritocrazia, che era un po' l'aspetto che anche toccava lucidi, quando a un certo punto uno dice che quello è svantaggiato ed è colpevole, perché noi siamo una società dove dovrebbe esserci la meritocrazia. È vero, questo è un po' il messaggio. Quindi questi quartieri dove la meritocrazia... Tra l'altro la meritocrazia dalla Camusso, ma anche ultimamente mi sembra che anche il Papa Francesco l'abbia stigmatizzato negativamente quando è andato a Genova a visitare l'Ilva. Quindi, sì, è bene, ha fatto un progetto che si chiama Sport oltre la crisi, dove noi premiamo le società che si accollano, le società sportive che si accollano di prendere quei ragazzi, soprattutto che vengono dalle famiglie, dai centri dove è meno presente l'attività sportiva, dove è meno ovvio che si voglia eccellere, primeggiare. E certamente i quartieri dove è più forte l'immigrazione è così, perché se noi andiamo a vedere l'obesità, l'obesità appunto ha una sua correlazione anche con l'origine. Ecco, però qual è stata l'ispirazione? È commesso un monumento alla resistenza, perché spesso non viene ribadito che bisogna partire da un forte antifascismo, che è appunto il grande, io credo, punto di riferimento del nostro Paese, proprio perché l'idea è quella di vedere appunto le diversità come un patrimonio. Ecco, poi ho messo questo, Giulio Reggiani, forse, ecco, il motivo per il quale l'ho messo, non solo perché è nostro quasi concittadino, ma perché la mamma, in un incontro che abbiamo avuto, ha mostrato questa immagine, vedete, è il muro di Berlino. Ebbene, un muro che veramente è stato trasformato in un ponte, ed è tante città, sono città che hanno dei muri, ma forse appunto questo muro che è diventato un luogo dove i graffiti esprimono i grandi messaggi di apertura del pianeta. E questo appunto lei lo mostrava perché era, diciamo, vedete, questa è la Sfinge, insomma, in qualche modo era il movimento di libertà egiziano, e a un certo punto hanno qualcuno, l'artista, ci ha messo anche l'effigie di suo figlio. E quindi ce l'ha mostrato appunto questo, alcuni mesi fa, a febbraio, quando c'era l'anniversario di un anno. Ebbene, questa idea di trasformare i muri in ponti, è un modo forse anche per ritrovare dei percorsi nella città. Perché se andate a vedere a Berlino, ma chi non ha ripercorso il muro di Berlino? E quanti chilometri a piedi hanno fatto tutti i turisti intorno, ma tutte le città forse hanno i loro muri. E appunto anche qui c'è la dottoressa Zamaro, della regione, con la quale stiamo facendo un progetto per proporre dei percorsi di cammino in tutte le città, e forse uno di questi potrebbe essere semplicemente ripercorrere i muri. I muri di queste città murate, che oggi non sono più dei muri che escludono, ma sono appunto dei ponti. Poi non potevo venire a Trento senza citare Alexander Langer, e anche senza citare Missaglia. E appunto Langer che diceva, non è tanto Cizius, Alzius, Forzius, i grandi ideali, così semmai trampeschi, di fare la torre più alta, di essere più forti, ma semmai il Lenzius Profundius Suavius dell'Orto di Michelle, dell'Orto di Michelle Obama che vedete qui. E quest'Orto di Michelle forse è un messaggio, gli orti urbani ci abbiamo fatti anche nelle nostre città, e forse un messaggio di salute lei stessa, apposto il tema del movimento, l'idea che la Casa Bianca possano fare un orto urbano, e dove l'obiettivo è far sì che la zucchina, diciamo, produca delle radici sempre più profonde, un bel contrasto, diciamo, con la torre, l'Alzius della torre di Trump. E ecco qui, far sport oltre la crisi, avete visto, questa era una scuola che noi avevamo a Udine, dove non era diventato un ghetto, ma era diventato un ghetto africano. Cioè, nemmeno le mamme albanesi, o rumene, o volevano mandarci i loro bambini. Allora, ecco che lì, l'idea appunto anche dall'assessore è stata quella di stringere alleanza con tutti quelli che potevamo, dall'università, ovviamente, alle associazioni del quartiere, per dire, ma rendiamola attraente, come mettendo un'ora di educazione fisica ogni giorno? E forse, diciamo, qualche cosa siamo riusciti a fare. Ecco, poi ho visto che non parliamo di alleanze, ma parliamo di equità, allora appunto, questo è un famoso problema, del flauto di Amartya Sen, che sarà stato più volte citato oggi, ma lasciatelo dire, cioè, se uno deve, ho anche la divisione della torta, ma il flauto di Amartya Sen, Anna sa suonare, Biagio non ha giocattoli, Carla lo ha fatto, a chi lo diamo? secondo, appunto, il merito, secondo il bisogno, o in modo equo? Lo stesso problema è per la torta. Se fate bene i compiti, vi darei una fetta di torta, poi viene il momento di tagliare la torta, diamo le fette tutte uguali, diamo le fette più grandi a chi è stato più bravo, ha avuto più merito, diamo le fette più grandi a chi ha più fame. Dipende da quanto zucchero c'è dentro anche, perché adesso... Bene, ecco qui, questo è stato per me una grande esperienza, questo spirit level, che è stato citato Marmot, ma per me è stata la misura dell'anima, questo libro che correla, tanti indicatori di salute nelle città, da appunto il grado di recidività delle carceri, all'obesità, alla fiducia, all'uso di psicofarmaci, alla disuguaglianza in reddito, e da cui si vede appunto che certi paesi, come i famosi nordici, che hanno, diciamo, un buon sistema di welfare, o addirittura il Giappone. E vi lascio la domanda di perché. Perché il Giappone hanno, diciamo, una situazione di salute molto migliore di quello che può essere gli Stati Uniti. Non so se riuscite a leggere, ma insomma, il Giappone è qua sotto, e non riesco, aspetta, perché il Giappone è qua, e gli Stati Uniti sono qua. Bene, l'imbroglio della tassazione progressiva, ve lo risparmio, e il coefficiente di Gini, ce lo metto solo perché Gini, diciamo, è nato vicino a Udine, ed è una buona misura, però era anche lui. Quest'idea non è male, ma era un po' un fascista anche lui. Ecco, però, è vero questo, e non si può non dire. E invece, questo è una cosa che abbiamo fatto a Udine, perché tutti misurano la qualità della salute. Io, come l'organizzazione della sanità, OMS, mi ha dato una misura eccezionale. il DMFT, Decayed Missing Filled Teeth, minuscoli, perché sono da latte, e, nelle bocche dei bambini, qui è un po' come il cavallo donato, però qui invece gli guardiamo in bocca, e andiamo a misurare qual è il loro indice. Tra l'altro, l'OMS, ti dà anche una misura per vedere la disuguaglianza. Si va a vedere anche qual è la media, rispetto a tutti, e poi la media rispetto al percentile, dal terzo percentile è più, diciamo, svantaggiato. Ebbene, si è scoperto che a Udine siamo lontanissimi da quelli che dovrebbero essere gli standard di salute dell'OMS, ma ci sono differenze di salute enormi tra scuola e scuola. No, la cosa divertente, cioè divertente, diciamo, la cosa importante è molto difficile che io ho fatto malgrado l'ordine degli odontoi altri che ha fatto di tutto per impedirmelo, però quello che siamo riusciti a fare è stato scoprire che anche a distanze piccolissime c'erano profonde differenze, c'erano classi dove non avevano mai usato per esempio lo spazzolino, o non sapevano cosa fosse lo spazzolino, poi non so se perché non gliel'avamo detto nella loro lingua giusta, lo spazzolino, però, appunto, questa è la profonda differenza anche in una città tutto sommato dove c'è un certo benessere. Allora, noi abbiamo usato come proxy per la salute proprio questo indice dell'OMS e sulla base di questo abbiamo poi iniziato proprio un programma anche qui in alleanza con l'università, gli studenti, i tirocini, tutti, non con l'ordine degli odontoi altri e, no, beh, adesso li abbiamo portati a bordo anche loro ma è stato molto molto difficile. Bene. Sì, questo è appunto il cambiamento demografico che abbiamo, stiamo vivendo tutti, Udine ha una, diciamo, ha un indice di vecchiaio di 217, ogni 100 bambini sono di 14 anni ce n'è 217 di bambini sopra i 65 e vedete, insomma, tutti questi indicatori ma, insomma, non è che possiamo stare qui, noi usiamo delle mappe di salute e qui, eccoci, queste cose le facciamo con la WESP proprio con i nostri anziani. questo è un buon progetto di alleanza e mi piace molto la figura in alto che questo personal trainer da questa signora il cui obiettivo non è certamente fare il training della signora, scusa, a casa bensì di convincerla a uscire. Brava. Bene, di convincerla a uscire cioè, perché voi sapete in una vostra città sapete quanti sono i nuclei familiari nelle città italiane sapete quanto sono? il rapporto sono la metà cioè, su 100.000 abitanti di Udine ce n'è 50.000 di nuclei familiari vuol dire che ce n'è una quantità veramente non concepita, inimmaginabile di persone che vivono da sole dunque, se vogliamo promuovere il benessere dobbiamo soprattutto dirgli perlomeno guardate signori uscite e andate a parlare con qualcuno questo è forse il più bel progetto di alleanza che conosca poi ce n'ho qui un altro che vi mostro e poi dopo sarà finito il tempo questo qui lo fanno tutti ed è quello di andare a scuola a piedi però è molto interessante perché uno fa andare i bambini a scuola a piedi e quindi riduce il traffico e quindi gli puoi dire quanto CO2 da fonti fossili hanno risparmiato e quindi perlomeno un messaggio di ambiente glielo puoi dare poi anche di spazialità perché andando a scuola arrivano a scuola diciamo un po' più svegli e forse hanno capito anche quali sono le distanze della loro città ma soprattutto puoi coinvolgere delle persone anziane ed il tema appunto dell'intergenerazionalità è un tema molto urgente adesso perché mai prima d'ora nella storia dell'uomo eravamo della donna insomma dell'umanità avevamo quattro generazioni contemporaneamente presenti oggi appunto una di queste persone no così questa persona probabilmente questa qui in alto questa signora tutta contenta e probabilmente a casa deve andare a badare a sua madre o a suo padre questa quarta generazione bene e qual è un'altra degli aspetti positivi di questo progetto che per me è diciamo emblematico ma conduce anche a un'integrazione sociale per esempio a Udine abbiamo avuto grande soddisfazione quando finalmente le mamme albanesi italiane figurate friolane hanno accettato che come accompagnatrice ci fosse una mamma ganese perché c'era un certo pregiudizio bene effetto qui adesso dove sono l'altra cosa è utile e che e qui mi ricollego con quello che diceva Capolongo appunto di progettare uno quando ha dei gruppi di cammino come questo c'ha un ottimo focus group per coprogettare la messa in sicurezza dei percorsi casa scuola noi l'abbiamo fatto quasi tutti gli anni da quando io sono sindaco messo non occorrono tanti soldi certamente ci vogliono cose dell'ordine alla fine di 200 mila 200 mila euro ma comunque invece di tappare il solito cubetto di porfido o fare perché quello che il sindaco è sempre accusato dice ci sono le buche bisogna tappare le buche tu tappi le buche poi c'è la gente che protesta che vanno troppo veloci allora devi fare i dossi allora io ho deciso di lasciare le buche però invece di ammessare in sicurezza perché tutto questo fatto tra concavo e convesso mi sembra che fregni ovviamente comunque e quindi abbiamo messo in sicurezza questi percorsi ma l'abbiamo messo discutendo con loro ovviamente cioè non è che l'hanno disegnato i bambini in tutti gli aspetti però sono stati diciamo coinvolti e hanno coprogettato in qualche modo su questo se posso un attimo inserirmi così faccio intanto un applauso per il sindaco che ci ha presentato bene perché parlando del progetto Pedibus che è sicuramente una cosa facile diciamo da fare è fattibile perché alla fine poi bisogna anche guardare un po' la fattibilità di quello che si può proporre e anche diceva delle varie sfaccettature che ha questo diamante perché non è soltanto l'attività sportiva ma è anche il fatto di creare delle interazioni tra varie persone coesione sociale su cui torneremo ma anche quella di poi rapportarsi con chi si occupa di trasporti e tante cose grazie a tutti grazie a tutti